Oggi è la giornata contro la violenza sulle donne. Vogliamo affrontare questo argomento partendo dalla sua origine. Ne parliamo oggi con Davide Parma dell'Associazione White Dull di Genova. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, sì, la nostra associazione si occupa oramai da dieci anni di uomini autori di violenza nelle relazioni effettive. Abbiamo cominciato nel 2011 a Genova e tuttora stiamo lavorando a Genova e da un paio d'anni siamo presenti anche sul territorio della provincia di Imperia con un sportello dedicato proprio a questa problematica. Perché il problema della violenza di genere è un problema che riguarda gli uomini. Per cui il lavoro che noi facciamo è proprio quello di lavorare, accompagnare questi uomini affinché possano cessare la violenza che è presente nelle loro relazioni con partner attuali oppure anche ex. La violenza ovviamente sappiamo che è di vari tipi. Non si parla di violenza fisica, molto spesso è quella più visibile, quella che anche sappiamo riconoscere meglio e che anche gli uomini che si rivolgono a noi riconoscono più facilmente. Però all'interno del percorso, una volta intrapreso i colloqui e il lavoro in gruppo, che è una parte fondamentale del nostro percorso, poniamo anche l'accento su vari tipi di violenza e diversi. Per esempio la più diffusa ma anche la meno conosciuta forse è la violenza psicologica e parliamo quindi di cose più facilmente capibili come per esempio insulti oppure sminuire la propria compagna. Però abbiamo anche, ci sono anche delle altre forme un po' più sottili come per esempio il sarcasmo oppure delle battute che non sono richieste, modalità di mettere in luce negativa la propria compagna o la propria ex che non vengono letti come violenza dagli uomini ma che in verità poi colpiscono la donna molto di più. Chi sono gli uomini maltrattanti? Ma allora non esiste un profilo diciamo specifico dell'uomo maltrattante. La violenza sappiamo essere trasversale nella società e quindi le persone che si rivolgono al nostro centro lo fanno o su loro spontanea volontà oppure inviati da per esempio magistratura, servizi sociali eccetera eccetera. Però quello che abbiamo visto negli anni è che comunque il profilo medio non esiste ma c'è proprio una diversità tra le persone per cui nei nostri programmi arrivano persone che rappresentano la popolazione. Quindi abbiamo italiani e stranieri, abbiamo la persona che ha una scolarità molto bassa fino alla persona con laurea e post laurea, anche a livello, come posso dire, di stipendio. Abbiamo sia la persona che è disoccupato, guadagna molto poco, persone che hanno un ottimo stipendio. Cioè la violenza purtroppo non è incasellabile in una determinata categoria ma è trasversale nella nostra società e quindi purtroppo l'identikit non è facilmente attuabile. Le vittime rimangono comunque le donne e devono attraversare un percorso di prevenzione ma anche per gli uomini è importante la prevenzione. Quando dovrebbe iniziare? Assolutamente sì. La prevenzione dovrebbe iniziare fin da subito. Quindi diciamo l'obiettivo del nostro lavoro pur lavorando con gli uomini rimane sempre la protezione delle donne e degli eventuali figli presenti. Ma diciamo un altro obiettivo che noi ci poniamo è anche quello di un cambiamento culturale. Per cui lavoriamo, come dicevo prima, sia con gli uomini autori di violenze, che quindi in una prevenzione di tipo secondario, ma anche lavoriamo per esempio nelle scuole per lavorare con i ragazzi sull'abbattimento di stereotipi, di genere, di pregiudizi. Per cui è importantissimo lavorare sia prima con i ragazzi nella scuola, sia anche con gli uomini, affinché loro possano cominciare un proprio cambiamento culturale e portare questo cambiamento all'interno delle famiglie, con i loro figli, affinché loro poi siano in qualche modo portatori ancora di un cambiamento. e piano piano portare, diciamo, spostarci da queste dinamiche che stiamo vedendo adesso di violenza ad una situazione in cui queste dinamiche non ci sono più. Il vostro progetto si chiama Lato Oscuro. Quando un uomo si rende conto di avere questo lato oscuro, come lo manifesta? Come può rivolgersi a voi? Allora, ci sono solitamente due situazioni. Ci sono uomini che a seguito di un episodio si rendono conto che c'è qualcosa che non va e quindi vogliono rimediare ciò che è successo. Non tutti gli uomini sono separati dalla donna su cui hanno agito violenza, quindi qualcuno è ancora nella relazione, quindi qualcuno cerca di recuperare e quindi provare a cambiare. Qualche d'uno, invece, non accede ancora a questa consapevolezza, ma, diciamo, è obbligato da un percorso giudiziario, per esempio, a fare percorsi di questo tipo. Quindi abbiamo due, come posso dire, due modalità di invio. Ad ogni modo, una volta che le persone si rivolgono al nostro centro e lo possono fare tranquillamente cercando, per esempio, su internet, si cerca il centro White Dove, si trovano i recapiti, ci possono chiamare, ci possono mandare email, massaggi, siamo facilmente raggiungibili. Una volta che però, diciamo, iniziamo il percorso, gran parte del percorso nella fase iniziale è proprio specifica per il riconoscimento delle proprie modalità di condotta violenta. E quindi, cominciando il percorso, piano piano, molti uomini si ritrovano a dire «Ah, ma questo non sapevo che era violenza, questo non me ne ero mai reso conto». Per cui, piano piano, andiamo a sviscerare un po' la loro storia, a vedere esattamente che cos'è che è successo e cosa non è successo, e piano piano questi uomini cominciano a capire che alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti sono considerati violenti e sono percepiti come violenti dalla compagna, ma anche dalla società, per questo hanno ricevuto una condanna. A volte non si capacitano del perché, eppure riusciamo, sin dalle prime sedute di gruppo, a far luce per questo lato scuro. Si chiama lato scuro perché sono cose che stanno comunque nell'oscurità e su cui noi invece puntiamo una luce. Puntiamo una luce perché siamo convinti che la questione dell'uomo maltrattante, dell'orco, che ben conosciamo, questa figura che è molto spesso rappresentata nei media, non sia veritiera, ma che gli uomini possono cambiare. Per cui, gettando una luce su queste dinamiche, su queste problematiche, abbiamo anche il modo di vederle, di guardarle e di correggerle, di trovare delle alternative. Siete attivi a Genova da oltre dieci anni. Qual è invece la situazione in provincia d'Imperia e a Sanremo nello specifico? Allora, come dicevo prima, a Sanremo abbiamo uno sportello che si trova in via della Mercede e però attualmente purtroppo i fondi stanno scarseggiando e prevediamo che per l'inizio del 2022 i fondi non ci siano proprio. Quindi il nostro lavoro è a rischio, questo va detto. Quello che stiamo organizzando a Genova, invece, è un corso di formazione per operatori che vogliono lavorare con uomini autori di violenza e per cui invito chiunque stia guardando questa intervista e chi è interessato a questo lavoro a contattarci per poter fare questo percorso, che è un percorso specifico ma necessario, perché per lavorare con la violenza va fatta una formazione molto particolare, molto specifica, perché bisogna anche fare un grosso lavoro introspettivo sul nostro rapporto con la violenza e comunque invito chi vuole, chi fosse interessato, a rivolgersi a noi per avere più informazioni, perché attualmente noi siamo qui in regime quasi di volontariato, per cui è molto difficile, ripeto, siamo molto a rischio con la possibilità di continuare con le nostre attività. Se ci fosse qualcuno, invece, qua sul territorio, sarebbe molto più facile continuare l'attività da qui e soprattutto anche attivarsi sul territorio per cercare eventuali fidanzamenti. Ci sono donne che si rivolgono a voi per segnalare o per cercare di risolvere i problemi dei loro compagni o degli uomini che ne maltrattano? Sì, succede, può capitare. È molto raro che chiamino prima le donne, però è capitato. È capitato quello che noi facciamo, però rifacendoci anche alla Convenzione di Istanbul, che, diciamo, detta delle linee guida rispetto al lavoro con uomini autori di violenza e donne vittime di violenza, noi non facciamo terapie di coppia, non facciamo mediazioni familiari, perché riteniamo che la violenza sia una problematica specifica dell'uomo e che quindi, diciamo, le persone coinvolte, l'autore e la vittima, debbano fare due percorsi separati. Per cui è successo che le donne segnalassero questi comportamenti. Abbiamo provato a lavorare con loro, al telefono ovviamente, sulla migliore possibilità di proporre questa possibilità al loro compagno, o al loro marito. Soprattutto, e lo facciamo molto spesso, inviandole a due centri antiviolenza per comunque avere prima la protezione necessaria per loro. Dopodiché valutare anche con un'operatrice che conoscerà meglio la situazione e saprà muoversi in maniera più corretta rispetto a una semplice telefonata se ci sono i presupposti di sicurezza per proporre a un compagno o un ex compagno di fare un percorso del genere, perché non sempre vengono accolti con favore queste proposte.